Il destino degli elfi. I guerrieri corazzati. Le foglie della quercia nel cortile del castello erano verdi e fresche. Un piccolo gruppo di elfi sedeva sotto la sua chioma. Tra di loro, la regina Miosotis, che viveva al castello insieme ai cavalieri che avevano giurato di proteggere la terra degli elfi da ogni minaccia. Oggi la regina aveva riunito i suoi per festeggiare l'arrivo della primavera. Sul tavolo davanti a loro c'erano pane appena sfornato, frutta secca, pan di zenzero e uova fresche. Questo è il periodo più bello dell'anno, disse la regina. Quando tutto diventa verde, il mio cuore si riempie di gioia. E quest'anno ho un motivo in più per essere felice. Ero così preoccupata che i miei figli se ne fossero andati per sempre. E ora sono tornati da me. Sorrise e guardò sua figlia, Bellis, e suo figlio, Rubus. Erano recentemente tornati nella terra degli elfi dopo un pericoloso viaggio attraverso un regno strano e sconosciuto. E siete diventati entrambi così grandi, disse la loro vecchia balia Dianthus. Bellis era alta quasi quanto sua madre adesso. Anche suo fratello minore Rubus aveva iniziato a crescere rapidamente. Ho sentito che sei diventato molto bravo nella scherma, disse Ser Corilus, sposo di Dianthus. Era stato proprio lui, anni prima, ad insegnare a Bellis a usare la spada. Bellis è una campionessa, disse Rubus. Bellis arrossì. Rubus ha ragione, disse Ser Prunus, un giovane cavaliere che li aveva accompagnati nel loro lungo viaggio. Ero incaricato di proteggerli, ma più di una volta è stata Bellis a proteggere noi. Tutti scoppiarono a ridere e Rubus guardò con orgoglio sua sorella. Ciò significa che un giorno potrà diventare un cavaliere, giusto? Chiese lei Corilus annui, ma la regina sembrava scettica. Essere un cavaliere non è un gioco da bambini, disse. Lo so, rispose Bellis. Ma io non sono una bambina. No, probabilmente non lo sei più, disse sua madre con un piccolo sospiro. In quel momento si sentì un battito di zoccoli dal cancello del castello aperto. Entrò un giovane elfo a cavallo, madido di sudore. Sembra avere notizie importanti, disse Corilus. L'elfo balzò da cavallo e corse dalla regina. Un disastro, un disastro ha colpito gli elfi, boccheggiò. Il nemico è nella nostra terra, i contadini scappano, le case bruciano, è un disastro. Che cosa intendi? Chiese la regina, visibilmente sconvolta. Corilus porse all'elfo una coppa di vino e disse. Calmati e raccontaci tutto quello che sai. Il mio nome è Sumbucus, disse l'elfo. Sono una guardia di confine all'estremo nord, a limitare della terra degli elfi. Io e i miei compagni sorvegliavamo la pianura polverosa. Non è un compito troppo difficile, perché la pianura è un deserto arido che si estende per molte miglia più a nord. Non vi cresce nulla e non vi si trova anima viva. Almeno così pensavamo. Alcune settimane fa abbiamo avvistato un'enorme nuvola di polvere che si avvicinava, spazzando la pianura. Era un esercito. Ha colpito la terra degli elfi come un uragano e siamo dovuti fuggire immediatamente.